Capitolo 5. Tutti odiano Ganimede perché è tanto carino. Ganimede affondò il viso tra le mani e scoppiò a piangere. Guardai Annabeth e Grover, che sembravano annaspare quanto me su come confortare un dio che piangeva. Gli diedi una pacchetta sulla spalla. Dai, su. Fu inutile. Si avvicinò uno dei camerieri con un sorriso incerto che gli faceva tremolare gli angoli della bocca. Il frappè non va bene, signore? Posso portarle qualcos'altro? No, no. Ganimede tirò su col naso. È solo... Indicò a franto le nostre bevande. Non sopporto di vedere così tante coppe. È troppo presto, troppo presto. Il cameriere fece guizzare nervosamente i pettorali, poi batte in precipitosa ritirata. Sai, i ragazzi del campo mezzosangue si dedicano a varie attività artistiche e artigianali. Azzardo Grover, magari possono forgiarti un nuovo calice. Il dio scosse la testa. Non sarebbe la stessa cosa. Oppure potresti prendere in considerazione coppe usa e getta realizzate con materiale riciclabile. Grover, lo rimbrottò Annabeth, vuole la sua coppa speciale. Sto solo dicendo che quelle usa e getta potrebbero essere più igieniche. Tutti quegli dèi che bevono dallo stesso calice... Hai detto che il calice è stato rubato, intervenni. Sai chi potrebbe essere stato? Ganymede si accigliò. Per la prima volta vidi brillare nei suoi occhi la rabbia divina, segno che quel giovanotto era molto più di una faccia carina e gioielli vistosi. Qualche idea ce l'avrei, disse. Prima però dovete promettere che tutto questo resterà confidenziale. Per gli dèi il calice è un esaltatore del gusto. Ma se un mortale se ne impossessasse, un solo sorso gli garantirebbe l'immortalità. All'improvviso il salty sailor non mi sembra poi così speciale. Il mio primo pensiero andò a tutti quelli che casualmente avrebbero potuto trovare la coppa, berci qualcosa e diventare immortali. La signora dallo sguardo malevolo che serviva bastoncini di pesce alla mensa dell'Alternative High School. Il tizio che mi strillava di comprare un gelato ogni volta che passavo davanti al furgoncino con la scritta Mr. Happy che gestiva sulla prima Avenue. Il broker di Wall Street che saltava sempre la coda al bar e dava per scontato che ogni ordine fosse il suo. In base alle mie passate esperienze, l'ultima cosa di cui questo mondo aveva bisogno erano altri immortali. Il secondo pensiero fu Perché gli dèi continuavano a perdere i loro oggetti magici? Come se fosse un requisito professionale. Uno, diventare divinità. Due, ottenere un oggetto magico figo. Tre, perderlo. Quattro, chiedere a un semidio di ritrovarlo. Forse era semplicemente un gioco, proprio come ai gatti piace buttare giù le cose dai tavoli. Il terzo pensiero lo espressi ad alta voce. Se il calice è così potente, perché dovresti fidarti di noi per recuperarlo? Ganymede mi scoccò un'occhiata penetrante. E chi meglio di te? Tu hai già rifiutato l'immortalità una volta, Percy Jackson. Lo disse come se avessi fatto una cosa assolutamente inspiegabile, come chiedere i mirtilli sulla pizza, che a ben pensarci forse male non ci stanno. Ebbene sì. Una volta avevo rifiutato l'immortalità. Qualche anno prima Zeus mi aveva offerto di diventare una divinità minore, si applicano alcune regole e restrizioni, dopo che avevo salvato il Monte Olimpo dai titani. Io invece avevo optato per un cambiamento sistemico. Avevo chiesto agli dei di smettere di ignorare i loro figli semidivini. E, udite udite, ecco un altro aspetto per cui gli dei sono molto simili ai gatti. Non sono granché bravi a imparare nuovi comportamenti. Va bene, promisi Aganimede. Resterà assolutamente confidenziale. E questi qui? Indicò Grover e Annabeth. Questi qui sanno come mantenere un segreto, puntualizzò Annabeth. Parlare troppo non è mai una buona strategia. Mai, rincarò Grover. Sono i miei migliori amici, confermai. Puoi fidarti di loro quanto puoi fidarti di me. Che a pensarci bene era un concetto passibile di interpretazione. Ma Aganimede rilassò le spalle. Con le dita cariche di anelli d'oro si asciugò le lacrime. Va bene, disse. Sospetto che qualcuno sull'Olimpo stia cercando di mettermi in imbarazzo, di farmi fare una brutta figura di fronte a Zeus. Se scopre che ho perso la mia coppa, il Dio rabbrividì. No, devo recuperarla. Hai dei nemici? Gli chiesi. Mi era difficile immaginare come il coppiere degli dèi potesse far arrabbiare qualcuno. Oh sì, confermò Aganimede. Era, per esempio. Mi odia dal giorno in cui Zeus mi ha arrapito e condotto sull'Olimpo. Lui mi faceva sempre dei gran complimenti, sapete. E quanto ero bello, e quanto portavo allegria nel palazzo. Non è colpa mia se le mie gambe sono più belle di quelle di sua moglie, era. Anna beffera brevidì. Speriamo non sia lei. No, Aganimede assaggiò il frappè. Probabilmente no. Lo considererebbe indegno di sé. Non ero poi così sicuro. Se per la regina degli dèi ficcare il naso nella mia vita non era stato troppo meschino, non era escluso che si mettesse a rubare contenitori per bevande. Ma ce ne sono altri, continuò Aganimede. In realtà tutti sull'Olimpo mi odiano, perché sono un nuovo arrivato, un giovane arrampicatore reso immortale. Mi chiamano il cercatore d'oro. Ci credereste? Mi sforzai di non posare gli occhi sui dieci chili del suddetto metallo che indossava. Sospetti di qualcun altro in particolare? Aganimede si guardò intorno, come se uno dei camerieri potesse essere una spia. Fece cenno di avvicinarci. Prima che diventassi coppiere, ci sono state altre due idee a svolgere il mio lavoro. Ci spiegò. Prima Ebe, poi Iride. Iride, la dea messaggera, l'avevo già conosciuta. Di tanto in tanto i semidei la invocavano per inviare messaggi Iride, la nostra versione delle videochiamate, ma mi ricordai anche di aver visitato il suo negozio di prodotti biologici in California. L'esperienza mi aveva lasciato un'ustione da paciuli nei seni nasali che ci aveva messo settimane a guarire. Grover prese un rumoroso sorso dal suo frozen yogurt. Iride sembra un tipo troppo pacifico per andarsene in giro a rubare calici. Può darsi. Ebe, però, Ganymede corrugò la fronte. Ebe non la conoscevo. Al campo aveva una casa a lei dedicata, una delle più recenti, ma non era mai stata nelle mie cartelle del bingo Vinci l'impresa. La dea della giovinezza, precisò Annabeth, probabilmente notando che mi mancava qualche tassello. Ma, Ganymede, tu sei... Beh, giovane e bello per l'eternità. Perché dovrebbe volerti mettere in difficoltà? No, tu non la conosci, replicò il dio. I primi tempi, ogni volta che servivo da bere a un banchetto, mentre passavo lei borbottava rovescialo, rovescialo. È una grande immatura. Grover alzò le spalle. Beh, essendo la dea della giovinezza, non è una buona scusa, è ora che cresca, disse il trimillenario ventenne o giù di lì. Hai qualche prova che l'abbia preso lei? Gli chiesi. Prove? Ecco perché ho bisogno di te, replicò. Voi eroi non spargete polvere per le impronte digitali e analizzate campioni di DNA e cose così? Credo tu stia pensando a CSI, ma ok, inizieremo con Hebe, poi controlleremo Iride. Bene, Ganymede sorseggiò il suo frappè. Mmm, non male. Magari quando verrò licenziato e trasformato di nuovo in un mortale potrei lavorare qui. Oh, saresti un imbo perfetto, ammise Annabeth esaminando il dio e la sua aria da bel modello senza cervello. Da quanto tempo è sparita la tua coppa? Ganymede ci pensò per un attimo. Un secolo? Un secolo? Forse una settimana? Ganymede si pizzicò il naso. Confondo sempre le due cose. Non da molto comunque. Finora con le richieste di consegne sono stato in grado di fingere. Le altre divinità si aspettano coppe da asporto, ma se non recupero la mia prima del prossimo banchetto in presenza, tutti se ne accorgeranno, sarà umiliato pubblicamente. E quando è il prossimo banchetto? Chiese Grover. Lui adora i banchetti. Non lo so, gemette Ganymede. Zeus è imprevedibile. Potrebbe programmarne uno tra vent'anni o potrebbe farlo domani. Il punto è che ho bisogno di quel calice prima che si sparga la voce. Si sporse in avanti con un'espressione grave sul viso. Interrogate quelle idee. Cercate di capire cosa sanno. Ma non offendetele. E non dite che vi ho mandato io. E non rivelate che la mia coppa è stata rubata. Così sarà difficile interrogarle, obiettò Annabeth. Qualche idea di dove bazzichino? Mi preparai a sentir dire Polo Nord o Mongolia esterna. Se avessi dovuto chiedere un permesso per andare a caccia di una coppa in giro per il mondo, le lettere di presentazione per il college non sarebbero servite più. Non avrei mai finito il liceo. Stanno dalle parti del Monte Olimpo, rispose Ganymede con mio grande sollievo. Voglio dire Manhattan. Dovrebbero essere qui in zona. Fece un gesto vago, come se non dovesse essere troppo difficile per lustrare tutta Manhattan. Fai questo per me, Percy Jackson, e ti scriverò quella lettera. Non mi sembrava una grande ricompensa. D'altra parte, di solito gli dèi chiedono soltanto, senza promettere nulla in cambio. Un po' come quel ragazzino sfacciato nel libro L'Albero. A proposito, non regalate mai quel libro a un satiro per il suo compleanno, pensando che potrebbe piacergli perché parla di un albero. Quel satiro piangerà e poi vi picchierà. Parlo per esperienza personale. E sarà una lettera di presentazione positiva? Domandai. E la firmerai davvero? Ganymede aggrottò le sopracciglia. Sei un negoziatore molto abile, ma va bene. Ora basta, prima che mi rovini. E scomparve in una scintillante nuvola di polvere. Come succede sempre con gli eventi magici, i mortali intorno a noi sembrarono non accorgersi di nulla. O forse pensarono semplicemente che avesse trovato il frappe perfetto e fosse asceso nel luminoso cielo degli imbo. Bene, sorseggiai il mio salty sailor e scrutai i volti dei miei compagni in cerca di qualche segno di pentimento. Potrebbe essere divertente. Qualche idea su dove cominciare? Purtroppo sì, disse subito Grover. Ma lasciatemi finire il frappè. Avremo bisogno di...